Solo i ricchi hanno diritto di stare nel box con il parcheggio privato, Matteo Burzi provenienza di RGM, uno degli artefici di questa squadra che è arrivata un po' all'improvviso alle iscrizioni. Matteo, che cosa è successo dopo aver guidato in quarta posizione nelle prime due ore di gara? Abbiamo avuto un po' di sfortuna nella fase notturna con dei kart non proprio performanti e purtroppo abbiamo finito tutti i jolly, quindi al momento niente. Quello che capita lo dobbiamo tenere. Quello che capita ce lo teniamo, adesso stiamo pagando un secondo e mezzo, quasi due, sui nostri diretti avversari. Quindi considerando che in pratica mancano tre ore e tre quarti di gara, quasi tre ore e cinquanta con un secondo, arriverete domani alla fine della gara. Sì, 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 ho già prenotato per domani il lettino qui all'Ido di Jesolo e basta. Benissimo, allora l'esperimento con i piloti raccolti, uno per ogni autogrill incontrato salendo da Cattolica da Matteo Burzi, finisce in tragedia. Imputabile al 90% è Orlando Sidoti ovviamente. Abbiamo chiesto di essere gentlemen ma hanno detto che eravamo… No, ci sono piloti troppo forti, poi uno è di Red Racing, che cazzo vuoi lì? Esatto, esatto.